Stoppa le concessioni demaniali, si va da gara. L'auto auto imposto dai giudici del Consiglio di Stato riapre una vicenda che rischia di trasformarsi in un tormentone politico-giudiziario. Con l'ultima sentenza viene confermata la scadenza delle concessioni per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno. I comuni sono obbligati a disapplicare eventuali deroghe al 31 dicembre del 2024, un provvedimento che chiama in causa direttamente Palazzo Carafa che aveva prorogato le concessioni delle marine leccesi sino a fine anno. Sullo sfondo resta la rabbia e l'amarezza degli attuali concessionari. Da due o tre anni le sentenze del Consiglio di Stato sono tutte uguali, continuo a dire che bisogna fare le gare. Certo oggi dice qualcosa in più perché addirittura dice che la proroga al 2024 è illegittima, per cui che cosa dovrebbe accadere? Dovrebbero chiudere tutti gli stabilimenti balneari in Italia che hanno ricevuto la proroga al 2024. Insomma penso che ora sia finito il tempo delle chiacchiere, penso che assolutamente il governo debba varare una norma e dare un minimo di certezza a noi imprenditori balneari perché così assolutamente non si può andare avanti. Servono norme chiare e definitive dunque per uscire da questa situazione d'impasse. Nel dispositivo dei giudici di Palazzo Spada si facciano anche alla scarsità di risorse e anche su questo punto si attendono lumi dal governo centrale che a gennaio aveva chiesto altri quattro mesi all'Unione Europea per definirle e riordinare il settore delle concessioni balneari. Nel parere ridato lo scorso novembre dalla Commissione UE e indirizzato a Palazzo Chigi sono stati definiti non pertinenti i dati della mappatura italiana. Quel 67% di spazi demaniali lasciati liberi non convinceva del tutto i commissari. Nel frattempo però migliaia di imprenditori balneari restano nel limbo, non pretendono corsie preferenziali ma il riconoscimento dell'attività svolta. L'unica cosa che ha normato in qualche sentenza è che ha riconosciuto al vecchio concessionario in caso dovesse perdere la gara una sorta di indennizzo, io non parlo di indennizzo parlo di avviamento perché è molto più giusto parlare di avviamento commerciale, ma anche il discorso dell'avviamento deve essere normato, c'è bisogna capire, l'avviamento commerciale questa è un'azienda che ha 90 anni ormai, anzi 91, allora è un avviamento di 91 anni? Grazie a tutti!